Ciao tesori ed eccoci finalmente ritornati con un nuovo video, perdonate l'assenza ma d'estate è sempre un po' complicato diciamo, un po' il caldo, un po' le location che non si sa e quindi ok, oggi infatti sono vestita molto molto estiva perché sono i giorni penso più caldi dell'estate quindi ok, però ho deciso di ritagliarmi questo momentino per farvi vedere un haul ce ne saranno altri, già vi dico, di cosine del brand che io non conoscevo assolutamente ma sono stata molto contenta di scoprirlo, un brand italiano che si chiama L'Equilibrist è un brand specializzato in particolar modo in leggings anticellulite, avete capito bene? poi questo brand ha anche costumi moda mare e comunque anche abbigliamento, credo, sì, abbigliamento sportivo ecco e guardate come sono carini questi pack, questi packaging che adesso scopriremo insieme la busta l'ho già gettata via però ho lasciato il pack intatto e vi dico che appena ho aperto la busta mi è arrivato un profumo buonissimo la cura nei dettagli appunto di brand italiano quindi sono molto molto contenta di farvi scoprire questo brand se ancora non lo conoscevate ma prima di scoprire l'haul vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video che ce ne saranno altri naturalmente si tratta di un video try on all allora partiamo, partiamo immediatamente e io direi di andare subito appunto a spacchettare sto registrando con l'iPad quindi non ho bene il controllo, speriamo che ti vada tutto bene allora abbiamo la prima busta, allora io ho già sbirciato perché non potevo resistere però guardate i dettagli i dettagli dei appunto bollini con il brand delle colibriste è tutto in carta ma veramente la cosa che mi ha stupita è stata molto carina adesso non so come fare per farveli vedere ma aspettate ci sono tutte queste stelline guardate che carine non so se le vedete, spero di sì perché non voglio che mi cadano credo che le riutilizzerò tipo anche sull'iPad potrei incollarle sono tutte brillantinate, guardate che carine le rimetto apposso, ce ne sono tantissime è stata una bellissima sorpresa veramente e le voglio tenere appunto perché ho intenzione di incollarnele e appunto per decorare l'iPad o il computer, insomma vedremo allora io ovviamente ho avuto il famosissimo leggings anticellulite avete capito bene quindi questo è il leggings è in lycra ma notare il dettaglio perché non è un semplice leggings ci sono delle stelle cioè bellissimo queste sono stelle sia nere che argentate quindi molto portabili ecco nel senso non si notano e allora qua ho il foglietto e appunto questo ve lo dico termini molto veloci ecco questo leggings è pensato per appunto andare a tra virgolette sostituire le creme, i fanghi perché magari non abbiamo tempo ecco di dedicare tutte appunto queste attenzioni ma possiamo indossare questo leggings che grazie alle fibre che incorporano principi attivi incapsulati al loro interno si ottiene un rilascio controllato garantendo benefici cosmetici prolungati e questi leggings appunto sono alla caffeina e contribuisce a disidratare le cellule grasse riducendo l'apparizione della cellulite è antiossidante e morbida e quindi ecco uno lo può indossare nel tempo libero non solo per allenarsi ma anche per andare a fare una camminata semplicemente andare a fare la spesa quindi io sono veramente curiosa non li ho ancora provati però ho altissime aspettative su questi leggings ma adesso andiamo a vedere anche altre cose perché non è che posso fare un ordine solo con una cosina no? ecco quindi andiamo a spacchettare guardate che calino sembra proprio appunto l'equilibrista al circo è davvero carino questo brand non lo conoscevo sono contenta appunto di parlare anche di un brand italiano non sono appunto stranieri allora ho preso anche un altro leggings questo è normale però questo è elisaldo guardate qua guardate che meraviglia bellissimo queste stelle color oro che spettacolo che sono no io mi immagino già andare in giro proprio avanti adesso che magari è a scaldo però un po' più avanti penso che saranno mia seconda pelle quelle anticellulite però anche questi molto molto carini poi non hanno cuciture strane dietro nel sedere insomma quindi ecco non risulteranno sicuramente volgari anche qua ci sono le stelline non le tiro fuori sempre per quel motivo lì però ci sono le stelline poi mi sono preso un articolo sempre scontato legghi e santi cellulite invece non è scontato e questo è appunto per la moda mare ma secondo me si può indossare anche non dico in città però vacanza anche se non si è al mare guardate che belli sono tipo i lurex è una pantaloncino con io non vedo l'ora di andare a provare tutto quindi anzi e quindi voi state vedendo tutte queste cose indossate io ne sono innamorata poi il profumo la cura è nei dettagli e veramente sono contenta di aver preso appunto di aver fatto shopping da una dita italiana guardate qua questa è l'etichetta non vi ho detto dettaglio ho preso di tutto la S anche l'etichetta è tutta glitterata cartoncino poi il pack attenzione al pack non c'è plastica nel packaging perché è appunto questo cartone e quindi che dire sono felicissima di aver provato questo brand fatemi sapere se lo conoscete e altrimenti sono contenta di avervelo fatto conoscere vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video lo spero questa volta ciao e lette grazie a tutti